ciao a tutti siamo live buon pomeriggio e benvenuti a questa nuovissima live sulla cro oggi sono in compagnia di jessica franceschini e commerce manager senior di commerce pool ciao jessica benvenuta ciao a tutti allora oggi volevamo fare un focus su quella che è la digital analytics al servizio della cro innanzitutto una piccola premessa poi vi anticipo che andremo live a vedere tutto quello che riguarda l'estrapolazione dei dati direttamente in piattaforma di google analytics 4 quindi jessica farà vedere come un e commerce manager o anche un data scientist insomma accede alla piattaforma per estrapolarsi dei dati utili al miglioramento delle conversioni proprio perché quando parliamo di cro parliamo di aumento delle conversioni a parità di traffico quindi a tutto quello che riguarda la scienza e l'arte di andare a generare maggior fatturato partendo dallo stesso numero di visitatori senza investimenti aggiuntivi in adverta per la scienza e l'arte di acquittare per la scienza e l'arte di acquittare